Salve a tutti ragazzi, bentornati in un nuovo video e bentornati su Polvere e Fumetti, la vostra forse rubrica preferita dove mi vedete diventare povero ogni settimana più della precedente. Oh, è finito finalmente il periodo estivo, che io odio tantissimo perché veramente è un periodo morto, non c'è veramente niente che lo salva per quanto mi riguarda, se non le ferie. Un'unica cosa positiva di questi periodi qua sono sempre questi momenti in cui si riesce a staccare e quando stacchi da questi periodi qua e vai a fare un giro in fumetteria è sempre un cazzo di salasso. Quindi è stato veramente un bordello, come al solito spero che voi abbiate passato dei bei periodi, un periodo tranquillo, un periodo rilassante, insomma mi auguro che veramente l'estate sia stato un buon momento anche per voi. Io sono stato in via una settimana, sono stato anzi cinque giorni ad Amsterdam, mi sono voluto questa piccola vacanza e non ho ovviamente mancato di farmi anche qualche acquistino proprio legato ai fumetti ovviamente anche ad Amsterdam, di cui ne parliamo proprio in questo video. Vi anticipo già che sarà un video lunghissimo, sarà un video pienissimo di roba perché c'è veramente un fottio di roba da farvi vedere. Ci sono gli acquisti in fumetteria delle due settimane precedenti, ci sono gli acquisti che ho fatto ad Amsterdam, gli acquisti di edicolo, insomma c'è veramente una marea di roba. Pensavo di accorpare anche quello degli acquisti di ho visto cose, ma sarebbe venuto fuori veramente un video apocalittico, quindi ho detto facciamo due o tre video divisi, insomma me la gestirò. Avevo pensato anche di far vedere queste cose qua nel video di ho visto cose, visto che è sempre materiale americano, si tratta sempre di materiale straniero, però ho detto no, faccio due cose divise, cerco di fare due cose separate in modo da essere più organico il più possibile. Come sempre, non per questi fumetti, ma per quelli che vi faccio vedere più tardi, quelli italiani, troverete i link per acquistarli su Amazon, come al solito sapete che se li acquistate da lì, date un contributo anche al sottoscritto. Allora, sono stati in questa fumetteria che si trova ad Amsterdam, nel centro di Amsterdam, che si chiama Hank Comics, una fumetteria veramente pienissima di roba. Se vi capita di andare a fare un giro ad Amsterdam, dateci un'occhiata, perché veramente è un viaggione splendido in tutti i sensi, però è veramente una fumetteria molto fornita. E tra l'altro commercia esclusivamente fumetti americani. Io mi aspettavo di trovarmi anche di fumetti scritti banalmente in olandese, ma visto che ad Amsterdam fondamentalmente tutti quanti, tutti, tutti, tutti parlano in inglese, d'altronde come anche in Italia ovviamente, vendono appunto esclusivamente fumetti americani. Quindi ne ho approfittato per spulciare, per recuperare qualcosina, per vedere se avevano qualche copertina particolare, per recuperarmi qualche numero americano di qualche serie, insomma. E devo dire che ci sono riuscito. L'unico acquisto non americano, non di fumetto americano che ho fatto, è questa edizione splendida delle bizzarre avventure di Jojo. Jojo, non so se ha un nome particolare, no, però appunto mi piaceva un sacco, costa anche un sacco perché l'ho pagata una cosa come 24 euro, appunto delle bizzarre avventure di Jojo che stanno facendo, la vizmedia sta producendo. Sono dei volumoni cartonati, bellissimi però, perché hanno queste copertine che sembrano dei tarocchi, insomma, come anche richiama tra l'altro la terza serie. Ovviamente ho preso il primo numero della terza serie, perché è la mia preferita. E poi, vabbè, non sto a farvi vedere gli interni, perché è paro paro, è esattamente all'edizione che abbiamo anche in Italia, con una sola eccezione, perché alle prime pagine, oltre ad avere la prima pagina d'inizio patinata, ovviamente a colori, c'è anche qualche pagina in bicromia, se non sbaglio, che adesso vi vado a pigliare, sì. Niente di eccezionale, per l'amore del cielo, però diciamo che sono delle aggiunte che sicuramente farebbero piacere avere anche in Italia. Però, insomma, è un'edizione molto, molto figa, ci tenevo veramente ad averla, perché è proprio bella, veramente un bel volume da avere, sono anche belli da vedere, magari anche esposti in libreria. Peccato che in Italia non l'abbiano stampato in questa maniera, fortunatamente anche perché noi siamo andati un pochino più sull'economico. Per quanto riguarda, invece, il comparto americano, oltre a fare qualche regalino, mi sono spulciato un po' di uscite americane, un po' di cose uscite appunto in America, ho comprato fondamentalmente solo roba Image e Dark Horse. Nello specifico per la Dark Horse, mi sono preso il primo numero di Sherlock Frankenstein e la Legione del Male, con la variant di Mike Mignola. Visto che Mike Mignola sarà ospite alla prossima edizione del Lake Como Festival, è una siera che si terrà a maggio prossimo qui vicino in Lombardia, ci terrei veramente molto a parteciparvi, unicamente per Mike Mignola. Mi farà piacere avere anche qualche autografo, insomma, sarebbe figo da avere, e se non dovesse andare così, insomma, ho comunque una bellissima variant di un grandissimo disegnatore, uno dei miei tre disegnatori preferiti, quindi, appunto, ce l'ho, la possiedo. Poi, visto che a breve si concluderà anche questa serie, ci terrei ad avere anche un volumetto autografato proprio dal, magari dallo sceneggiatore, se mai dovesse capitare in Italia, e sicuramente dall'isegnatore, perché l'isegnatore è un nostro conterraneo, ho comprato il numero 37 di Black Science, per appunto avere la possibilità, magari un domani, di potermelo far firmare, e poterlo, magari, anche appendere dai suoi creatori, perché è veramente una serie splendida, e poi, sempre per la Image Comics, ho recuperato i numeri 34 e 35 di Deadly Class, perché questi due numeri, perché il 34 è una copertina splendida, e anche questo mi auguro di riuscire presto a farmela autografare dagli autori, perché è una serie splendida, che mi piace molto sia come scritta, sia come disegnata, e il 35 l'ho preso per un semplice motivo, perché è una copertina variant, non so nemmeno di chi, perché non ho guardato nemmeno dentro, però semplicemente perché c'è in copertina il mio personaggio, il mio nuovo personaggio preferito della serie, che è Helmut, un metallaro non nazista, ma poco ci manca, però è un personaggio fighissimo, che a me piace un sacco, e appunto ci teneva ad avere anche questa copertina, è anche molto molto bella, e poi tra la miriade di robe che mi sono portato a casa, perché poi avevano una specie di scatolone, con dentro tutta una serie di albetti, che probabilmente loro ricevevano come pubblicità, tutti albetti gratuiti, allora mi sono accaparato un sacco di cose, tra cui, questa ve la faccio vedere, perché è una piccola chicca, è praticamente un volume speciale della Defend Comics, che è fondamentalmente un'associazione approvata tra l'altro dal Comics Code Authority, che per chi non lo sapesse era un ente che fondamentalmente è saltata fuori a un certo punto, tipo le madri preoccupate, diciamo una cosa del genere, per appunto in qualche modo censurare i fumetti, e che appunto questa azienda si preoccupa di sostenere i fumettisti, che vengono tra virgolette accusati, di, come dire, infrangere certi limiti di censura, appunto questa è una compagnia, un'azienda che pubblicizza questo tipo di cose, insomma, e ci riteneva ad avere anche questo albetto, perché era una piccola chicca da portarmi a casa, non vi sto a far vedere gli altri, perché sono cose varie sempre della Defend Comics, poster, roba un po', le cartoline tipo quelle che mi manda anche Pier Maria di Ho Visto Cose, insomma, tutto questo genere di cose, e poi mi sono portato a casa in questa edizione molto bella, al prezzo di 18 euro, se non sbaglio, sì, un fumetto che volevo leggere da un po', perché è scritto da un autore che sto apprezzando molto, soprattutto su Saga, e disegnato da Nico Henricon, che è un fumettista che ha fatto, mi pare che sia già uscito in Italia, sì, il suo Doctor Strange, che però era già conosciuto in Italia per Pride of Baghdad, che è l'orgoglio di Baghdad, uscito in Italia tantissimi anni fa per La Planeta, che la Lion aveva annunciato di ristampare, insomma, ho trovato questa bella edizione, che è bella, è molto molto bella, veramente, è una deluxe edition, al prezzo di, ripeto, 12 euro, che oltre ad avere queste tavole splendidamente disegnate, guardate che figata, che praticamente raccontano la storia di questo branco di leoni, che sfugge dallo zoo di Baghdad, appunto, branco di animali, più che altro, dallo zoo di Baghdad durante la guerra, appunto, ci tenevo ad averlo, perché era molto molto figo, e in più, ci sono anche tutta una serie di sketch, di bozzetti, di, diciamo, retroscena, scritti sempre da Vogan e da Henricon, insomma, era un'edizione molto bella, volevo comprare anche il, il primo brossurato di Black Hammer, però purtroppo, diciamo che la spesa era già abbastanza, abbastanza alta, ho detto, vabbè, insomma, non mi sembra il caso, purtroppo, volevo vedere com'era la sovracopertina adesso, perché tra l'altro è un altro disegno ancora bellissimo, ed è una anche delle tavole più, più rappresentative della storia, guardate che bella, è veramente bellissima, edizioni del genere mi piacerebbe vederle anche in Italia, però purtroppo, sono, probabilmente, talmente tanto dispendiose, che verremmo a pagarle veramente, un sacco, però, ripeto, era una storia che volevo, che addocchiavo da un bel po' di tempo, l'ho trovata lì, ho detto, vabbè, insomma, non, non mi sembra il caso di farmela scappare, me la, me la tengo in questo, in questo bel formato, questo era tutto quello che ho comprato ad Amsterdam, adesso recupero le cose che sono uscite in edicola, e ne parliamo anche lì, allora, in realtà sono poche le cose, non c'è tantissimo, ci sono i soliti numeri, ben 5, tra l'altro ne ho perso uno per strada, di Super Heroic Classic, abbiamo il numero 70, dedicato a Thor, il numero 71, dedicato agli Avengers, con in compertina Hulk, scusatemi, Ercole, che combatte contro l'Hydra, e non quella nazista, il numero 73, mi sono perso di per strada, il 72, dedicato ai Fantastici 4, il numero 74, dedicato a Devil, e il numero 75, dedicato agli X-Men, mi manca appunto il 72, e il 76, che sono i numeri, è il numero che è uscito proprio questa settimana, che devo ancora recuperare, sempre per la Bonelli, e poi è uscito il nuovo numero di D-Landog, 384, la macchina che non voleva morire, mi sembra un'idea un po' pacchiana, non lo so, mi dà l'idea di una storia stile, il maggiorino è tutto matto, una cosa del genere, però, devo dire che mi intriga molto, come è disegnato, da Sergio Gerasi, sembra veramente, veramente molto, molto figo, cerco qualche, qualche tavola un po' carina, mi sembra, mi sembra interessante, almeno dal punto di vista grafico, vediamo un po' come sarà la storia, e poi, di questo ne parliamo, in uno dei prossimi video, probabilmente lo registrerò, proprio dopo questo, ho voluto comprare, giusto per vedere un po', per farmi un'idea, di questa collezione da edicola, il primo numero della collezione definitiva, delle graphic novel, della Marvel, il primo numero, al prezzo di 3,90 euro, mi pare, di 4 euro comunque, dedicato a Spider-Man, con la nascita di Venom, di tutta una serie, anni 90, anni 80, insomma, che non penso abbia bisogno, di presentazioni, di questo non ne parlo molto, sappiate che, il giudizio tutto sommato, è buono, ma non continuerò questa serie, per un motivo, che vi spiegherò poi, nel video, che vorrò appunto, proporvi, settimana prossima, per parlare di questa, di questa collezione, se vale la pena, o meno, seguirla, secondo me, appunto, però ne parliamo, in quest'altro video, adesso recupero la pila, delle uscite, in fumetteria, madonna che bordello, che, ovviamente, non ho nemmeno, smistato, nel senso che non ho diviso, per editore, insomma ragazzi, pazienza, ve le cuccate in questa maniera, allora, cominciamo, mamma mia ragazzi, quanta roba, è veramente un bordello, cominciamo con un'uscita, che veramente era, stata annunciata da Panini Comics, tantissimo tempo fa, ma veramente, tantissimo tempo fa, di cui, non se ne è saputo più nulla, ma che, fortunatamente, a sorpresa, è stato pubblicato, è il secondo numero di una serie, che a me, era piaciuta molto, l'incipit era veramente, molto molto carino, tra l'altro, se non sbaglio, potrei dire una stronzata, ma forse il primo numero era uscito, poco meno di un anno fa, perché, mi ricordo che era stato promosso, durante il Free Comic Book Day, della Panini, non mi ricordo più se a settembre, se è sempre a settembre, no, forse addirittura era a maggio, a settembre è quello della Star, non mi ricordo più, comunque, insomma, è finalmente uscito, il secondo numero, di Rumble, di John Arcudi, e Stephen Arren, se non sbaglio, di James Arren, John Arcudi, scusatemi, una serie molto molto divertente, molto molto interessante, che ci porti in questo mondo, dove fondamentalmente gli dei, gli dei di tantissime culture, si sono stanziati nel nostro mondo, vivono a fianco a noi, e appunto la storia di questo giovane ragazzo, che ha a che fare con questo dio, intrappolato in uno spaventapasseri, è una storia molto molto divertente, mi è piaciuta molto, tra l'altro, se non sbaglio, è una serie che adesso, è stata fatta anche ripartire, se non dico, se non dico vaccate, c'è di mezzo anche David Rubin, che non so se ha disegnato, qualche tavola, oltre alle, oltre alle copertine, però, sembra essere veramente, sembra, anzi, è veramente molto molto divertente, è molto molto figa, tra l'altro, John Arcudi, se non sbaglio, è anche il, il creatore di The Mask, potrei dire una stranzata, ma, se non sbaglio, è il creatore di The Mask, correggetemi, se sbaglio, sempre per Panini Comics, e sempre per la linea, 100% HD, è uscito questa storia, molto molto interessante, che, addocchiavo, fin dalla sua uscita, in America, li ho sentito parlare, veramente, veramente, molto molto bene, che è, Ed Looper, Ed Lopper, scusatemi, di Andrew McLean, dal titolo, L'Isola, ovvero, una piaga di bestie, questo è un bel volumone, perché costa 22 euro, però è anche un po' più ciccione, rispetto agli altri, e, di che cosa parla? È una storia che, tutto sommato, non è neanche molto differente, da Rumble, perché si parla sempre di fantasy, di mitologia, di mostri, di magie, insomma, tutte queste cose qua, insomma, il protagonista è questo, cacciatore di mostri, che deve approdare, che approda su quest'isola, appunto, popolata da mostri, per poter sconfiggere, questo, questo stregone, la particolarità, è il disegno, di come è stata fatta questa storia, è una storia, che ha dei tratti molto, molto cartuneschi, seppur, allo stesso tempo, anche molto, molto simili a, a Mike Mignola, soprattutto, nell'uso delle ombre, c'è questo, questo sapiente uso delle ombre, che è tipico, di, di Mike Mignola, che è uno dei motivi, per cui ho anche acquistato questa storia, che sembrava veramente, veramente, molto, molto bella, è proprio sulle mie corde, insomma, su, su questo genere, è una storia che a me, piacerebbe veramente molto, piuttosto, penso già che mi piaccia molto, e non vedo l'ora di leggerlo, non vedo l'ora di leggerlo, perché ripeto, ne ho sentito parlare, veramente, veramente, molto, molto bene, e c'è un po' di accolini in bocca, poi, altra uscita per Panini Comics, ma qua cominciamo già a parlare di Marvel, è uscito il nuovo volume, per la collezione, i grandi eroi Marvel, in bianco e nero, gli eroi Marvel, in bianco e nero, questo numero è dedicato, agli X-Men, di Chris Claremont e Jim Lee, queste sono sempre edizioni bellissime, tra l'altro anche di questi vorrei parlarvene in uno dei video prossimi, perché sono delle uscite bellissime, veramente sono una collezione che vale la pena seguire, soprattutto come vedessi anche per i casi di Spider-Man e di Capitano America, di Jack Kirby, se siete dei fumettisti in erba, se siete dei fumettisti che vogliono imparare a disegnare, insomma, vi potete godere delle tavole splendide, senza i colori, quindi poter tra virgolette anche studiare il modo in cui questi disegnatori, in questo caso Jim Lee, lavorava alle sue tavole, insomma, è una collezione che veramente vale, secondo me, la pena di fare, di seguire, perché è splendida, il prezzo è un po' altino, perché sono tutti i volumi che costano intorno ai 30 euro, però è veramente una collana bellissima, che sono contentissimo che Panini Comics stia portando in Italia, l'unica cosa che mi sento un po' di rimarcare, diciamo, alla Panini per quanto riguarda queste edizioni, è la mancanza di un editoriale più approfondito, di un editoriale più, non lo so, cioè io avrei voluto vedere veramente degli editoriali fra un capitolo e l'altro, per magari delle pagine preparatorie a queste tavole, ovviamente se ce ne fosse stata la possibilità, invece c'è una semplice, tra virgolette, introduzione, tra l'altro scritta da Nicola Peruzzi, che è l'editor che ha voluto tantissimo questa testata, però insomma non mi lamento troppo, perché è veramente un modo splendido per poter apprezzare ancora di più queste tavole, mi auguro presto che venga pubblicato qualcosa di Romita Junior, di Mignola, scusatemi, di Ribic, insomma, mi auguro che queste cose vengano pubblicate presto, perché sono tra i miei disegnatori preferiti, quindi mi piacerebbe veramente veramente molto, di Giorromita tra l'altro è stato fatto il volume di Spider-Man, quindi non di Lorde Junior, ma mi piacerebbe vedere qualcosa anche proprio del figlio di questo grande disegnatore, spillate, spillate che questi perlomeno li ho messi tutti insieme, allora, per quanto riguarda la Lion, abbiamo il numero 39 di Batman, il numero 40, non so di cosa stiamo parlando, perché ovviamente io sono indietrissimo con la lettura, veramente ragazzi, sono messo malissimo tantissime pile di fumetti, e non c'ho fatto, devo trovare un modo per districarmi da questa roba, e poi il numero 17, delle Batman il Cavaliere Oscuro, Metal, tra l'altro al termine delle uscite di Batman, il Cavaliere Oscuro con Metal, taglierò anche questa testata, perché vorrei recuperarmela in formato brossurato, in formato di cui parleremo più tardi, per un'altra testata sempre della DC, perché insomma ci sono delle storie belle, per l'amor del cielo, però altre che non mi attirano più come prima, per esempio Birds of Prey all'inizio era molto molto figa, mi piaceva molto, mi è un po' scesa, ultimamente non viene neanche più pubblicato tanto Batman Beyond, quindi anche quella probabilmente potrei recuperarmela in futuro, anche qua se c'è qualcuno che fosse interessato ad avere questi primi, diciamo 20-22 numeri, probabilmente si concluderà Metal nell'arco di questi numeri, se fosse interessato ad averli, con tanto anche di cofanetti, me lo faccia sapere, possiamo magari accordarci su qualcosa, possiamo parlarne insomma. Sempre per la DC c'è anche il numero 39 di Flash, anche questo devo dire che lo sto un po' valutando, perché non mi sta più facendo impazzire, l'unico spillato uscito in questo periodo è il numero 705 di Amazing Spider-Man, con questa splendida copertina disegnata per l'occasione, penso da Marco Checchetto qua l'occasione, perché come vedete dal logo della PS4 qua in fondo, e dal costume che veste il nostro Peter Parker, fra praticamente pochi giorni, per io che registro e per oggi, per voi che state guardando il video, esce Marvel Spider-Man per appunto PlayStation 4, io mi sono accaparrato l'edizione della collezione, perché non sono un grande videogiocatore, però di alcuni giochi che mi sembrano intriganti, di alcuni giochi che mi piacciono, ci tengo ad avere l'edizione appunto la Collector Edition, qua stiamo parlando di un videogioco che parla della mia più grande passione, quindi insomma non potevo assolutamente esimarmi dal non prendere anche questa edizione della collezione, magari se è una cosa che può interessarvi fatemelo sapere, magari facciamo un video unboxing o una cosa così, magari lo faccio sulla pagina Facebook, così ve la spulciate solo lì, e magari è un buon motivo per chi non ha ancora il like alla pagina per andarla a seguire, così. E poi per Saldapress è uscito il 56esimo numero, come sempre per lo spillato di Invincible, al solito prezzo di 3,90€, non mi sfoglio troppo perché ho paura di farmi troppi spoiler, quindi lascio lì, lascio lì per adesso, facciamo che faccio questo brevissimo salto, anzi, però vi faccio vedere questo, perché finalmente la Lion ha buttato fuori il primo brossurato che raccoglie i primi 6 o 7 numeri, mi pare, di Superman Action Comics, che io alla serie di Superman l'ho praticamente rivenduta quasi tutta, mi mancano soltanto i primi numeri, però come avevo detto sto cercando di recuperare queste due serie, quella di Superman e quella di Action Comics, come qualche altra serie di rinascita, quelle che mi sono piaciute un po' di più, o che mi hanno detto qualcosa in più delle altre, in questi formati qua, in questi formati brossurati, che tutto sommato non costano neanche tanto, perché per 7 numeri, 12,95€, con sempre il solito 15% di sconto, arriviamo a spendere più o meno 10-11€, insomma, tutto sommato è un rapporto qualità-prezzo abbastanza buono, non sono come al solito i formati tagliola, quelli che ti si chiudono in mano, però sono dei formati abbastanza morbidi, che non sono troppo morbidi, perché si sentono già sotto la costina che si rovina, però insomma vale la pena di spenderti dei soldi, secondo me, anche perché Action Comics è una serie che si lega a doppio filo, con quella che è la trama di Doomsday Clock, qualcosina anche di Metal, insomma di tutto quello che è, di tutti quelli che sono i crossover più interessanti della DC Comics, appunto, dalla via di Rinascita, quindi insomma, se vi interessano questi formati, sicuramente, se non volete spendere troppo, volete leggervi delle storie, tutto sommato belle, e anche interessanti e importanti, per quella che è la continuity attuale, della DC Comics, questi sicuramente sono dei formati che dovreste recuperarvi. Poi abbiamo altri manga, facciamo qua un piccolo salto in avanti, ragazzi mi spiace che ho fatto questo bordello qua, però me ne sono completamente dimenticato, abbiamo qualche manga, allora, nuovi numeri della Star Comics, abbiamo il numero 6 di Steelborn Run, non so se sono arrivato già alle parti che avevo già letto nella vecchia edizione, non credo, non penso proprio, o forse sì, no, forse sì, forse ci siamo, no, 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 qui ero già arrivato, devo vedere, vedendola così, c'ero già arrivato, una serie molto molto bella, qualcosina di diverso rispetto alle altre serie di JoJo ce l'ha, però è sempre su quella falsariga, è sempre su quella splendida falsariga, delle bizzarre avventure di JoJo, mi raccomando, ne parlavamo proprio all'inizio del video, se volete seguirvi, o comunque recuperarvi, le bizzarre avventure di JoJo, recuperateli in questi formati qua, perché tra l'altro sono gli unici disponibili, penso attualmente, perché vi perdereste anche una storia veramente splendida, uno dei fumetti giapponesi, uno dei fumetti internazionali più belli, su cui abbia mai messo i miei occhi e le mie mani, sempre per Star Comics abbiamo il numero 57 di Fairy Tale, che si sta pian pianino avviando alla sua conclusione, perché mi pare che si concluderà fra sei numeri, dove il 63esimo dovrebbe chiudersi questa storia, come sempre un pochino mi dispiace, perché è un fumetto che porto avanti da veramente tantissimo tempo, da quando facevo le medie, un pochino mi sembra di chiudere proprio un po' un'era, però insomma è un circolo che si gira, fortunatamente, che gira, che si gira, fortunatamente ci sono altre novità interessanti in campo manga, quindi vale la pena anche lasciare, diciamo, il testimone ad altre uscite, ad altre serie che sono altrettanto belle, come al solito vi cito sempre The Seven Deadly Sins, My Hero Academia, che sto apprezzando un pochino di più in questi ultimi tempi, insomma, e poi perché no, anche Kingdom è una serie che sta andando avanti da tanto tempo, però non se la caga nessuno, purtroppo è una serie che veramente non ha successo, infatti sono stati vari gli alzamenti di prezzo, purtroppo, perché è una serie che veramente merita, secondo me dovreste darci un'opportunità, perché è veramente veramente bella, una serie anche un pochino più diversa dalle altre, è violenta come Berserk, ma diciamo impostata su, non le battaglie individuali, ma sulle battaglie campali, sulle battaglie di questa Cina, che era presa in questa guerra di 500 anni, insomma, ci sono personaggi, intrighi, complotti, schieramenti di battaglia, strategie, insomma, e colpi di scena go go, è veramente una serie molto molto interessante, ripeto, mi spiace che non abbia il successo che secondo me, e probabilmente anche secondo chi la sta leggendo, merita, perché appunto, ripeto, merita molto, dateci un'opportunità, perché sicuramente non ve ne pentirete, per Pani di Comics abbiamo poi il numero 33 di Guns, che come al solito sto portando avanti con piacere, perché tutto sommato mi sta piacendo, e non mi ricordo se dovrebbe concludersi con il 36, però comunque dovremmo essere quasi agli sgoccioli, mi pare che si concluderà fra poco, e poi come al solito sto portando avanti anche il recupero di Akira, con il quinto numero della collection, il penultimo numero della collection, una volta che li avrò recuperati tutti, spero di trovare anche un po' di pace interiore ed esteriore, per potermela leggere tutta ad un fiato, perché questo era il mio intento, e concludiamo con due acquisti freschissimi, perché li ho fatti giusto ieri pomeriggio, sempre per Panini Comics, sempre per la Marvel, purtroppo ripeto c'è stato un po' di bordello, però mi spiace, spero di non avermi creato troppa confusione, parliamo del primo numero della nuova serie, dedicata a un personaggio che negli ultimi anni ha subito, più che ha subito ha incontrato una vera e propria rinascita, è tornato proprio sotto i riflettori della Marvel, anche perché è un personaggio molto molto interessante, che ha un background molto molto interessante, sto parlando di Moon Knight, questa nuova serie che tra l'altro è la serie che inizia proprio con Legacy, come indica anche il bollino qua sotto, e come era stato anche già per Pantera Nera, con Clos Supremo, inizia qua appunto la rinascita, scusami, Legacy di Moon Knight, con La Follia di Famiglia, scritta da Max Bemis, che è uno sceneggiatore che non conosco, devo essere sincero, se qualcuno di voi mi sa indicare qualche altra serie che ha scritto, o se mi sa indicare semplicemente se è un bravo scrittore o un bravo sceneggiatore, mi raccomando, me lo faccia sapere, mentre il disegnatore lo conosco molto molto bene, perché è uno dei fetici, è uno dei degli sceneggiatori preferiti da Alan Moore, ovvero Jason Burroughs, che è il disegnatore per esempio del Neonomicon, di Providence, mi pare anche di alcuni capitoli, sicuramente quelli di Alan Moore, di Cross, insomma, è un disegnatore scusatemi che per questo suo tratto molto pulito, molto anche plasticoso, io lo vedo molto plastico, non lo so, mi piace molto, volevo far vedere qualche tavola senza spoilerare troppo, però è un disegnatore che veramente merita merita, che secondo me è anche un po' la punta di diamante di questa testata, una storia che dovrebbe tra l'altro, a quanto ho letto, cercare un po' di dare un respiro al nostro Moon Knight, che sta cercando di fare un po' di ordine nella propria testa, che però ovviamente non sarà messo nelle condizioni di poterlo fare, perché ovviamente ci sarà qualcuno che cercherà di mettergli i bastoni fra le ruote, e poi concludiamo con quella che è una nuova uscita sempre per la Panini, che è il volume che si attacca direttamente alla saga che è stata scritta da Jeff Lemire, che tra l'altro rappresenta anche qua il legacy per questa testata e per questo personaggio, sto parlando di Thanos, questa serie dal titolo Thanos vince, scritta dalla coppiata, è scritto da Donny Cates, è disegnato da George Shaw, Bernard Shaw, non mi ricordo come si chiama, che tra l'altro è stato annunciato da poco, che sarà lo stesso Dream Team, lo stesso team creativo, che porterà avanti, che comunque darà il via al fresh start, per quanto riguarda i Guardiani della Galassia, sono molto intrigato per quanto riguarda sia questa serie, perché ne ho sentito parlare veramente molto bene, ma anche per i Guardiani della Galassia, perché è stato presentato questo esercito fondamentalmente di personaggi cosmici, di cui non si capisce quali siano gli effettivi membri di questo gruppo dei Guardiani, saranno tutti quanti, ci saranno di nuovo i cinque originali, magari con qualche aggiunta, sarà un gruppo totalmente nuovo, la vedo dura, ma sarebbe veramente molto molto figo, insomma ci sono delle cose interessanti anche per quanto riguarda i Guardiani, ma tornando a parlare di Thanos, questa è una serie che viaggiando nel tempo mette a confronto il Thanos presente, il Thanos che conosciamo un po' tutti, con la sua versione futura, che è questo re Thanos, diciamo pure così, che tra l'altro è un personaggio molto molto intrigante, e anche molto molto minaccioso, perché come vedete qui, è un personaggio che tiene al guinzaglio un Hulk vecchio, che qua non riesco a capire se sia il maestro, la versione vecchia, cattiva e futura di Hulk, e addirittura ha al suo soldo questo personaggio, che ha avuto talmente tanto successo, un personaggio talmente tanto trash, che i fan hanno chiamato a gran voce una sua serie, che tra l'altro è iniziata da poco anche in America, non so se sia sempre di, forse è sempre di Cates e di Shaw, che è praticamente questa versione futura di Ghost Rider, scusatemi, di Frank Castle, che è diventato Ghost Rider cosmico, il Cosmic Ghost Rider, questo qua è bellissimo, proprio è tamarrissima come cosa, una roba che mi ha strappato più di una risata, appunto fa l'araldo di, alziché di essere l'araldo di Galactus, è l'araldo di Thanos, insomma sembra una cosa veramente trashissima, non vedo l'ora di leggermi anche questa serie, per capire un po' quanto è stramba, quanto è fuori di testa anche queste serie, il video si conclude qui, Madonna Santa ragazzi è veramente una, a parte che sto morendo di caldo, quindi l'estate non è ancora finita, ma è stato veramente un parto, e si è formata un'altra pila enorme, alla mia sinistra, è veramente pessima come cosa, io vi ringrazio come al solito, se avete visto il video fin qua, mi raccomando, se vi interessa qualcosa, trovate quasi tutti i link per questi fumetti, in descrizione, per poterli appunto acquistare su Amazon, sempre in descrizione sapete ormai bene, che trovate i link per arrivare ai miei contatti, ora dico sempre Twitter, Google Plus, che poi non uso mai, anche il blog non uso mai, i link per Red Capes, i link per acquistare i fumetti, su Ho Visto Cose, insomma tutta una serie di cose, che sicuramente potrebbero interessarvi, li trovate qua sotto, io vi saluto, vi ringrazio, e ci vediamo nei prossimi video, ciao belli!